No, non hai sbagliato sito, questa è proprio Radio BAU B-B-B-B-B-B-B-B-BAU Ed è una bellissima giornata di sole quella che ci porta a Mondogatto per l'Open Day di Primavera Siamo venuti quest'inverno, primavera, torniamo e facciamo un giretto e vediamo quanti gatti ci sono da adottare quanti gatti troveranno le adozioni da adesso a fra pochissimo Siamo all'open day dell'associazione Mondogatto Il nostro open day che è una grande festa dove cerchiamo di far conoscere al mondo e a tutti i nostri visitatori i nostri mici Il nostro lavoro di salvaguardia dei mici liberi, delle colonie feline e di il mondo felino in genere A noi piace far capire alla gente che il micio, i mici, gli animali in genere non sono dei giocattoli Sono comunque degli esseri che vanno curati, accuditi e salvaguardati se necessario Quindi creiamo questa nostra festa due volte l'anno, questo è l'open day di primavera Per far conoscere la nostra associazione, per far conoscere il nostro lavoro con i mici E soprattutto per cercare di raccogliere consensi e fondi ovviamente per poter portare avanti il nostro lavoro Il nostro rifugio accoglie adesso circa 170 amici Tutti quanti in questo momento sono impegnati a farsi mostrare dai nostri visitatori A farsi vedere dai nostri visitatori Noi però in realtà siamo aperti per le visite senza bisogno di appuntamento Tutti i sabati e le domeniche, dalle due e mezza alle cinque e mezza Quindi aspettiamo tutti coloro che volessero conoscere tutti i nostri amici Tutti i nostri amici Se volete dare un'occhiata in anticipo ai nostri amici, ospiti del nostro rifugio Potete dare un'occhiata al nostro sito che è www.mondogatto.org Abbiamo anche una pagina Facebook in cui collochiamo tutti i mici in cerca di adozione Le adozioni del cuore e le adozioni già effettuate Cercateci su Facebook No, non hai sbagliato il sito Questa è proprio Radio BAU B-b-b-b-b-b-b-b-bau